Bene, cerchiamo di finire questo mondo in maniera molto fast, molto furiosa, soprattutto molto completa. La Kittus Wall. Ah, bello schifo questo. Mi piace proprio questo livello, sì sì. Porca puttana. Odio questo livello. Dunque di qua, andiamo subito a prendere questo. Questo qua è bello che... queste walla qua perché distruggono tutto quello che c'è. Uh, è fermata a mezz'aria, è grandissimo. Ok. Una moneta rossa. Uh! No, no! Ok, ce l'ho fatta, cazzo. Ma, porco... Dio maledetto, minchia, la bestemma sempre mi deve partire. E che cazzo? Eh, che pare, mi gestico che è una rottore palle, eh. Io non fa mai sta cazzo di capriola quando serve. Ah, cagare. Oh... Questo, bellissimo. Questa chiave... Boh... E fai sta capriola, porca troia maledetta! Minchia, le palle! Che due coglioni, oh! Gesù! Ok. Qua devo mangiare più monete del mio avversario. E io, per fortuna, mi posso saltare in testa e usare la lingua. Quindi, per questa sfida penso che non ci sia paragone. E tu stai fermo, eh. Ehi! Che altro ne voglio far prendere nemmeno una. No, eh, non va bene. Io ne ho preso una e due, non va bene. No, eh. Ancora una. Oh, oh! Ciuccia, devi ciucciare, maledetto. Maledetto, infame schifoso, tu muori. Ok, ora. Uno e uno due. Mangiamoci di... Ok, questa è la pegliana. Questa usiamola perché già mi ha rotto il cazzo. Dunque, qua. Ah, c'è una fiore, bellissimo. Qua ci sarà di sicuro una moneta rossa. Se riusciamo a prenderla perché... Ah, ecco, caspita. Certo che se più avanti dovrà mai servirmi questo movimento sono fottuto perché non si riuscirà a fare. Allora, vediamo se qua c'è ancora una e se riesco a fare la capriola, infatti ce n'era ancora una. Mi è andata bene. Ehm... Qua? Che devo fare? Devo entrare quarta nel tubo di acqua, non mi ricordo. Intanto spero di aver preso tutto fino adesso. Ok. Uh, è un bello. Ehm... Ma sì, mangiamo... No, mangiamo un bel niente. Distruggiamo qua, vediamo se c'è qualcosa qua sotto. Ok, non c'era un Kaiser, il Bessimo. Adesso qua. Eh, vaffanculo, lo sapevo. Vabbè. L'importante è che quello non si è levato dai coglioni. Eh, vaffanculo, guarda te. Muoli. Oh, giuccia. Maledetto, infami. Ok. Io spero di aver preso tutto sinora, perché... Non lo sono neanche andato certo. Eh, un po' poca roba. Ancora 11 monete rosse, mi sembra che qualcuno non lo sanno in identità. Spero di no, eh. Uh, che culo. Mi sembra che mi sono dimenticato un sacco di roba indietro. E non voglio rifarlo, però, a questo livello, perché è una rottura di cazzo. Eh, minchia, che palle, madonna, adesso bestemmio di uomo, eh. Gesù, bambino. Che palle che è sta cosa. No, ma porca troia. No, poi dovevo... Non c'è niente qua, poi non ci sono stemmi. Ah, capito. No, ma forse devo fare qualcosa ancora qua giù. Sì, qua ci stiamo due giorni, poi cercare di abbattere queste cose, eh. Sì, poi sti pareti qua li devo abbassare tutti. Sì, certo. Finisco dopo domani. Aspetta. Aspetta un attimo che qua magari c'è qualcosa. Ah, c'è qui. Mi cazzo. Eh, no, come no. Ah, mi sembrava strano che sto passaggio era a vuoto. Finché a lungo sto collo. Allora se non... Boh, puliamo quello. Sì, è andata bene, cazzo. Non so se quelle monete erano rosse. No, basta. Ti è a lungo sto livello? Ma no, io sono già sette minuti quasi. Ma che è incasinato, cazzo. Non finisce mai. Allora, vediamo se è qua. Ok. Che quante me ne mancano? Tre. Mi chiede che forse ci sono. Eh, signore benedetto. E forse sto proprio io, la malefica. Signore benedetto. Ok. Dimmi che è questa. Oh yeah. Ho tutto tranne un fiore. Che a quanto pare devo trovare qua. Dio mio. Ok. Dimmi che è qua. No. E dove è? Cazzo è? Non dire che me lo sono dimenticato in giro, mo, eh. Qui a te ti mangio. Quindi almeno ti devo dalle palle. Uh, bene o male. E qua, e qua, e qua. Togliti. Ah. Vogli stare lì ancora un po' a raccontartela? No, eh. L'avevo preso tutto. Quindi... Quindi sono a posto. Ah, c'è questo pezzo qua. Ah no, non lo faccio con la macchina. Perché... Ah, cazzo, non volevo... Ah. Ah, volevo passare da sopra per evitare il mio pezzo della macchina. Amiche, in questa parte qua faccio questo nostro livello, pazzesco. Bellissimo questo pezzo. Oh. Ah, carino questo pezzo. Oh, no. Oh, no. No, non sai. Vabbè, non importa. Comunque ho preso tutto, no? Sì. Allora, va bene. Ok, dieci minuti per un livello, che nel nostro cuore è lungo. Da questo punto, sta parte qua, ho fatto solo sto livello, pazienza. Perché non voglio, diciamo, affrettare le cose, perché il prossimo livello è il boss finale del mondo, quindi voglio evitare di... Il mio cane è cominciato a impazzire, sta abbagliando alla luce del sole, non si sa bene per quale motivo. O lo provo a fare al castello? Ma sì, proviamola a fare, dai. Facciamolo, dai. Anche se viene un po' più lunga, sta parte non importa. 2.8. The Potted Ghost's Castle. Bene. Vediamo di farlo. Ah, il caso vuole che le monete rosse siano proprio queste, eh. Guarda caso. Ok. Ma che strano, più sono queste le monete rosse, eh. Combinazione. Buo. 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 Bellissimo. Eh, che palle, però mi sta venendo un embolo andare piano così, eh. Dai. È che non posso andare avanti perché non so come parla, insomma. Non ho altri puntini. Dai, appoggio. Dai. Dai, per la miseria, che palle. Ci posso un tasto per accelerare, come nel memoratorio del GBA? C'è un tasto per accelerare il tempo del livello, quindi se potesse fare... Ok. Voilà. Buo, 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 buo. Ah, questo pezzo qua. Mmm, bello questo pezzo. Sì, sì. Molto bello. Sì, appunto perché io ce la farò, eh, a prendere le monete rosse che mi servono. Questa è qua, eh, va. Dovrebbe essere solo quelle tre a giudicare dal colore. Speriamo, perché non ho voglia di farlo tutto questo pezzo su e giù, che non finisce mai più al domenico. No, cazzo, ok. Ok, qua c'era solo il fiore da raccogliere, a quanto vale. Oh, sì. Ehm, c'è altro qua? Forse no, eh. Wow. No, dovrebbe essere solo quelle tre, se non ho sbaglio. A meno da indicare dal colore sembrano solo quelle Sì, sì Sulla fiducia, eh Ok Ah, ora la capigliora la apri bene, eh Infame di noi Yoshi Dinosauro maletico Ok, qua Uh Qua, cerchiamo di non farci Ammazzare, ah, bastare di questi Ok Tu smettia di fare casino Queste bombe Ok, un po' di roba che è sempre comoda Ok E tre ommo a stringere sto coso Quali catena di montaggio efficiente O passamano Ah, va, ammazzate Ok Ok E buttalo Bravissimo Voglio evitare di morire Quindi aspetto volentieri Ok Va bene Mi è andata di culo lo stesso Ok, andiamo avanti Sta durando meno sto livello Che il castello finale Del livello di prima Anche se comunque Ancora ci va un bel pezzo Ok Una moneta rossa Quante me ne mancano? Mmm Ancora otto No, nove Nove E due fiori Mmm Ancora ce n'è Ok Qua, ah ok Qua devo Tirare su L'affare Dove già passarci Sì Ancora uno Siamo di nuovo Nelle fogne Ma qua c'è altro Ma no Che cazzo Vediamo lo schiacciato Avanti Schiacciato su Mamma Allora 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 Qua Benissimo Checkpoint Fa sempre Il piacere E ammazzati Qua sotto C'era qualcosa Sì Proviamo a entrare qua Qua sono dei pezzi Che uno va completamente a caso Sono a multiple Le vie da Ah Benissimo Quindi Cosa mi manca Un po' di monete rosse E un fiore Se non sbaglio Giusto Sì Un fiore E sette monete rosse Ma dovremmo farci Già 16 minuti Di remplesti Cazzo Dai dai Ancora Ok Come non sono sicuro Di passare Ok Vediamo Quella Ok Il fiore L'abbiamo trovato Allora Mancano le monete rosse Ma Ho l'impressione Di essere dimenticato qualcosa A suo punto Perché Una è questa Ok Una è questa qua Una è questa Mi mancano un pochino No Dove devo andare Ah ecco Era ingannevole la cosa Ok Me ne mancano Quattro Guarda Questo pezzo qua Questo pezzo qua Infame Perché Per questo Che infame Qualca troia No Tolca puttana Quello me lo tengo Per il duomo Perché di sicuro Mi servirà Vediamo un po' Se le due monete rosse Dunque Il passaggio È lì No No Ma Cristo Vaffanculo Mi chiestete Dei rompi i coglioni Forca puttana Vi odio Minchia Adesso non c'ho più Non ho abbastanza roba Per curarmi Vaffanculo Minchia Ok le monete le ho prese tutte Qua quanto mi cura Ah però ho ammazzato questi Bellissimo Ammazzati il cazzo Dove sono Sento fare Rumore Ancora una Ancora una No Se si riesco a ammazzarlo con Un mare di rimbalzo No Figa Minchia Che padre Ma c'ho qualcosa Io Ah c'ho questo Questo dovrebbe tornare al caso Sì sì E vai Meno male cazzo Ho tutto sì Che culo Minchia Mi devo far sudare Sette camicie Ammichia ma c'era questo Minchia Impazzire tre ori Pesso c'era già il boss In alto Ma vaffanculo Vabbè Pazienza L'importante è che si sia fatto Il problema è che do ancora Fare il boss Non è che sia così Questo qua non è difficile Questo boss Però devo stare attento A farmi colpire Da Dalle fiammelle Non è difficile Questo boss Però mi resterò Un pochino attento Da queste fiammelle Minchia Cercare di Ok 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 Ma non rompi Se già molto Non lo sai Ok Con gli occhi chiusi Sognante Yoshi Bravissima Ok Anche questa è andata Ci è andata bene È stata una parte Molto lunga e travagliata Ce l'abbiamo fatta E vai Ok Perfetto E vai Questo volevo vedere io Perfetto Allora mi sblocca Il secondo livello Il sa che facciamo poi Perché sono già 20 minuti abbondanti Benissimo E poi facciamo magari anche un bonus Così magari otteniamo qualche oggetto extra Se può tornare utile Ok Vediamo Yoshi Dove distruggere il secondo Secondo mondo Secondo palazzo Yoshi di Namitardo Parte 2 Boom E vai La bandiera di Yoshilandia Bene Questa parte finisce qui E noi Cominciamo dalla prossima Con il livello extra E poi con il contesto mondo Quindi alla prossima Ciao 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 Passiva